L'ordine del giorno retta informativa del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del Ministro della Difesa sugli sviluppi della situazione in Afghanistan. Presidente, onorevole senatrici, onorevoli senatori, mi permetterete di rivolgere fin da subito un pensiero riconoscente alle nostre forze armate per lo straordinario impegno, la grande professionalità e la profonda umanità che ancora una volta hanno dimostrato nell'affrontare la crisi afghana. Sono certo di interpretare in questo doveroso maggio anche il vostro sentimento. Nell'accogliere a Ciampino il rientro dell'ultimo volo, insieme ai sottosegretari e ai presidenti delle commissioni difesa, ho detto loro che gli italiani sono orgogliosi della straordinaria impresa umanitaria che hanno condotto e che ha reso onore al nostro Paese. Dopo il collega Di Maio, che voglio qui ringraziare per l'intensa collaborazione di queste settimane, articolerò il mio intervento sugli sviluppi della crisi afghana con l'obiettivo di illustrare le azioni messe in campo della difesa e di condividere una chiave di lettura per quanto avvenuto e una interpretativa rispetto ai possibili sviluppi della situazione e delle sue ripercussioni sul futuro della politica di difesa e sicurezza nel contesto dello scenario geopolitico attuale. Nel ripercorrere brevemente le azioni attuate dalla difesa all'indomani dell'annuncio della conclusione della missione della Nato, vi riporto oggi il consuntivo finale dell'operazione di evacuazione dei cittadini afghani, rimandando per dettagli alle mie comunicazioni dello scorso 24 agosto alle commissioni congiunte di estere e difesa. L'operazione Aquila Omnia ha portato in Italia 5.011 persone, comprensibili del personale della nostra ambasciata e altri cittadini italiani, di cui 4.890 afghani. Siamo di fronte a un numero decisamente superiore a quello dei collaboratori diretti dei nostri contingenti e della nostra missione diplomatica e dei loro familiari, dal momento che le attività di trasporto hanno riguardato anche attivisti di diritti umani e dei diritti delle donne, giornalisti, membri delle istituzioni e collaboratori delle organizzazioni non governative italiane presenti sul territorio in questi anni, individuati con criteri analoghi e condivisi con gli altri Paesi alleati. Un'operazione prettamente militare che ha comportato notevole sforzo organizzativo ed operativo, sotto la guida del Comando Operativo di Vertice Interforze, in uno scenario difficile e a tratti non permissivo. Un'operazione complessa. Sono stati eseguiti 90 voli attraverso un consistente spiegamento di mezzi aerei, tra velivoli C-130 e aerei KC-767. La presenza a Kabul di una Joint Evacuation Task Force, composta da 119 militari, ha assicurato la cornice di sicurezza, il supporto sanitario e le funzioni di comando, controllo e di comunicazioni strategiche, in stretto ed efficace coordinamento con il personale diplomatico e militare della nostra ambasciata. La difesa, all'interno di una cornice organizzativa distribuita in Italia e in teatro operativo, ha visto impegnato un dispositivo di oltre 1.500 unità per attività di trasporto, logistiche e di supporto all'accoglienza e gestione dei rifugiati. Per quest'ultima esigenza sono state messe a disposizione anche strutture militari. Permettetemi di dire che si è trattato di un'impresa straordinaria, merito innanzitutto delle donne e degli uomini in divisa che hanno operato con dedizione e professionalità. Certamente non è il caso di fare classifiche, non mi appassionano neanche, tuttavia credo che sia giusto registrare che l'Italia è risultato del Paese dell'Unione Europea che ha evacuato il maggior numero di cittadini afghani, grazie al lavoro congiunto delle diverse articolazioni dello Stato coinvolte. Tutte queste attività sono state svolte inoltre in stretto coordinamento con gli alleati attraverso un efficace e reciproco supporto. Voglio evidenziare principalmente la collaborazione con Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Germania, insieme ai quali siamo stati in grado di far fronte anche alle ulteriori richieste di trasporto presentate dall'Unione Europea e da altri Paesi. A loro intendo rivolgere anche in questa sede il mio più sincero ringraziamento. Come ha già sottolineato il collega Di Maio, altrettanto fondamentali sono stati i contributi dei nostri patron regionali, Qatar, Kuwait e anche Pakistan. Questa disponibilità è il frutto di solidi rapporti bilaterali particolarmente significativi anche sul piano tecnico-militare. Su richiesta di Washington abbiamo poi reso disponibili le basi di Aviano e Sigonella per il transito dei civili afghani verso gli Stati Uniti. Infine, nell'ambito dell'Alleanza Atlantica abbiamo offerto assetti di polizia militare, sanità e team specializzati nella cooperazione civile-militare e nel controllo dello spazio aereo, per contribuire all'attività che la NATO potrà decidere di condurre sul proprio territorio per supportare ulteriori attività di accoglienza e supporto umanitario. Le immagini drammatiche dell'aeroporto di Kabul sono ancora davanti ai nostri occhi. Alla soddisfazione dell'impresa portata a termine si affianca il forte rammarico e la preoccupazione per le persone che non sono riuscite a partire e che aspirano a costruirsi un futuro fuori dall'Afghanistan. Anche per questo la difesa assicurerà la piena disponibilità per la condotta di eventuali ulteriori attività di evacuazione, secondo modalità e tempistiche che necessariamente dovranno essere ponderate e coordinate nel quadro delle iniziative politico-diplomatiche illustrate ora dal Ministro Di Maio. L'evoluzione della situazione in Afghanistan ha colto di sorpresa l'intera comunità internazionale per la rapidità con cui è mutato il contesto politico-militare e per i conseguenti drammatici risvolti umanitari. Esisteva la consapevolezza comune del rischio di un'offensiva talebana nella fase immediatamente successiva al ritiro, ma allo stesso tempo la NATO e la maggior parte degli analisti stimavano che l'efficacia delle forze di sicurezza afghane sarebbe stata perlomeno sufficiente a contenerla. Una stima basata sulla larga superiorità numerica delle forze afghane, la disponibilità adeguate di equipaggiamenti e le valutazioni positive in merito all'operato e alla preparazione dei militari locali, che negli anni più recenti avevano dimostrato una capacità operativa autonoma, frutto soprattutto dell'impegno nell'attività di addestramento svolto dalle forze NATE, NATO anche in situazioni complesse. È tuttavia evidente come le cose non siano andate secondo le attese. I talebani si sono mossi per acquisire rapidamente obiettivi di elevata valenza operativa e tattica, come i varchi di confine, i principali centri abitati e le vie di comunicazione verso la capitale. Un risultato che è stato decisamente agevolato dalla quasi inesistente resistenza delle forze di sicurezza e difesa afghane, che in alcuni casi non hanno impegnato in combattimento gli avversari, con una condotta non prevedibile ed inaspettata per le sue modalità e per le forze in campo. Ci si deve chiedere dunque che cosa sia successo, cosa non sia funzionato. Stiamo parlando di forze armate ben addestrate e ben equipaggiate, che nel corso degli anni si sono distinte combattendo coraggiosamente, con grandi sacrifici e numerose perdite, contro i talebani, al-Qaeda ed ISIS. Se gli accordi di Doha e la conclusione della missione Resolue Support possono aver avuto un impatto da un punto di vista motivazionale, le ragioni dello sfaldamento delle forze di sicurezza sono da ricercare innanzitutto nella diretta conseguenza di un'evidente mancanza di coesione in uno scarso senso di identità, ascrivibile soprattutto all'atteggiamento della leadership repubblicana, che per diversi motivi non è stato in grado di svolgere quel ruolo di guida politica autorevole e rappresentativa che la situazione richiedeva. E questa è una delle prime e più importanti lezioni che, secondo me, dobbiamo assumere e approfondire dopo l'esperienza condotta in Afghanistan. La decisione della conclusione della missione Resolue Support è stata condivisa in ambito NATO, naturalmente all'interno di un confronto che ha visto accenti diversi tra gli alleati, ma anche la volontà di essere coerenti con il valore della coesione dell'alleanza. Ho già avuto modo di ricordare che durante la ministeriale NATO dello scorso febbraio avevo rappresentato la necessità di valutare la conferma della presenza delle forze dell'alleanza anche oltre la scadenza del primo maggio, prevista dagli accordi stipulati dall'amministrazione americana. Già allora il raggiungimento delle condizioni politiche di sicurezza previste dall'accordo appariva lontano dall'essere soddisfatto, visto lo stallo dei colloqui, l'aumento significativo degli attacchi alle forze di sicurezza afghane e gli assassini mirati di rappresentanti delle istituzioni, dei media e della società civile. Abbiamo sempre ritenuto che il dialogo intra-afgano e il mantenimento delle istituzioni repubblicane fossero le condizioni indispensabili per il futuro del Paese. Ribadendo il nostro orientamento, condiviso anche da altri Paesi europei, circa l'esigenza di correlare le decisioni sulla conclusione definitiva della missione a progressi tangibili di queste condizioni. La difficoltà a raggiungerle ha fatto prevalere nelle valutazioni dell'amministrazione americana la scelta di associare il rientro ad un approccio temporale, time-based, fissando la conclusione della missione al resto del supporto al primo maggio e articolando il rientro delle forze entro la data fortemente simbolica dell'11 settembre. Chiaramente questo cambio di impostazione, a causa del venire meno delle capacità operative critiche e funzionali al mantenimento del quadro di sicurezza generale dell'intera missione di addestramento e supporto, ha determinato condizioni tali per cui nessun altro Paese alleato poteva rimanere in Afghanistan. Si è arrivato di conseguenza al meeting straordinario dello scorso 15 aprile, nel quale, come ho detto, pur nella diversità degli accenti tra gli alleati, abbiamo assunto assieme questa decisione, appunto in coerenza con il valore fondante, irrinunciabile e da preservare, della coesione e dell'alleanza. Signor Presidente, senatrici, senatori, la cronaca di questi giorni non può e non deve far dimenticare l'impegno nazionale di questi vent'anni nella più grande operazione militare dal termine della Seconda Guerra Mondiale. Naturalmente siamo ben consapevoli che i fatti accaduti hanno reso palesi alcuni significativi punti critici, su cui tornerò, ma non possiamo avviare alcuna riflessione su quanto avvenuto senza ricordare le ragioni della missione e anche i risultati conseguiti. All'indomani del tragico attacco alle Torri Gemelle nel 2001, a seguito dell'invocazione dell'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico, siamo intervenuti con i nostri alleati per combattere il terrorismo globale, che aveva trovato proprio in Afghanistan un rifugio sicuro. Il aver scelto di agire, di dare il nostro contributo concreto nella lotta contro una minaccia imminente, diretta a tutto l'Occidente e i suoi valori, è stata una scelta non solo doverosa, ma soprattutto giusta. La presenza di Al-Qaeda nel Paese è stata resa inefficace. Di questo dobbiamo riconoscere il merito senza alcun dubbio alla Nato e ai nostri 50.000 militari che si sono avvicendati in questi vent'anni. Prima di tutto, per loro dobbiamo ricordare sempre le ragioni della nostra partecipazione, in particolare per i nostri 54 caduti e gli oltre 700 feriti a cui va il nostro grato ed efferente pensiero. Ricorderemo sempre, e con noi tutti gli italiani, il loro tributo alla sicurezza delle nostre comunità e alla difesa dei valori che incarnano la nostra Repubblica. Se tuttavia abbiamo garantito che per vent'anni l'Afghanistan non tornasse ad essere un luogo sicuro per il terrorismo internazionale, non possiamo nasconderci il fallimento nell'attività di costruzione di istituzioni solide e realmente rappresentative dell'articolata società afghana. Su questo punto, quello cioè dell'institution building, siamo chiamati a riflessioni che dovremmo condurre, sia nei contesti internazionali che a livello nazionale, relativamente ai nostri modelli di intervento e la necessità di un approccio multidimensionale, coerente e efficace condiviso, di cui la dimensione militare è solo una delle componenti. L'esperienza afghana ci interroga però anche su quali conseguenze possono scaturire dalla crisi in atto e sugli impatti che questa potrà avere in un'area già di per sé fragile e che gioca un ruolo centrale negli equilibri geopolitici globali. In una prospettiva più generale, dobbiamo evitare che l'Afghanistan torni ad essere un luogo sicuro per la Jihad mondiale e i recenti attentati a Kabul, con il connesso significato propagandistico, possono essere strumentalmente presentati come una vittoria e come una rinnovata affermazione delle capacità operative della galassia jihadista. Vi arrischio quindi che il deterioramento del quadro di sicurezza si estenda a quelle regioni di elevato interesse strategico nazionale in cui siamo impegnati, quali il Sahel e l'Iraq. Chiaramente le condizioni di riferimento sono profondamente diverse. In Iraq, ad esempio, sta crescendo in maniera significativa la forza delle istituzioni e la Nato ha l'occasione di rilanciare le proprie capacità di institution building, mettendo immediatamente a sistema le criticità emerse nello scenario afgano. E sarà con questa visione di insieme in particolare che l'Italia, a valle di una ponderata e approfondita valutazione anche di quanto avvenuto oggi in Afghanistan, assumerà nel prossimo 2022 il comando della missione Nato in quel Paese. Nell'indicare le aree di interesse nazionale che potrebbero essere interessate dalla ricaduta della crisi afghana ho prima citato il Sahel, regione che è sempre più centrale negli interessi di sicurezza europei e di italiani e nella quale il nostro impegno è significativamente cresciuto. Anche qui dovremo portare le elezioni apprese dalla vicenda afghana in termini di modello di intervento e approccio a 360 gradi rispetto alle problematiche di quei Paesi. È evidente che il nostro Paese, così come anche l'Alleanza Atlantica, deve trarre numerosi insegnamenti dall'esperienza afghana, per meglio identificare quali sono i suoi punti di forza, ma anche le sue debolezze, qual è appunto la difficoltà a supportare il processo multinazionale di nation building come quello che pretendeva lo scenario operativo afghano. L'epilogo afghano ha rilanciato la discussione in merito al ruolo della Nato e dell'Unione Europea nello scenario globale. La Nato è stata e resta l'organizzazione di riferimento per la nostra sicurezza, che garantisce protezione e deterrenza rispetto all'evoluzione del quadro geostrategico mondiale e che, prima di essere alleanza militare, è innanzitutto alleanza di valori. Le democrazie liberali e il loro patrimonio di valori e diritti sono un modello da difendere, che pur avalle dell'indispensabile processo di riflessione ed analisi sugli esiti dell'esperienza afghana, dovrà continuare ad essere l'archetipo di riferimento del nostro peculiare apporto allo scenario di cooperazione e insieme di competizione del nuovo contesto globale. Il processo di revisione strategica Nato 2030, attualmente in corso, dovrà tenere in assoluta considerazione quanto avvenuto dal 2001 ad oggi, nello sviluppare il nuovo concetto strategico di una Nato bilanciata, ma soprattutto l'idea di alleanza del futuro e delle sue relazioni con le grandi organizzazioni internazionali, prima e fra tutte l'Unione europea. Unione chiamata ancora di più a definire coraggiosamente la propria autonomia strategica, in complementarietà con la Nato, ma valorizzando al massimo le peculiarità e gli strumenti che le sono propri, essendo l'organizzazione che, più di tutte, ha le capacità di intervenire con efficacia nella realizzazione di azioni proiettate allo sviluppo economico, culturale e sociale dei Paesi in cui siamo chiamati ad operare. Il tema della difesa comune, oggetto delle recentissime autorevoli sollecitazioni del Presidente della Repubblica, è tornato centrale nella discussione politico-europea, anche grazie all'azione propulsiva del nostro Paese. Iniziative concrete sono state avviate per promuovere una più forte integrazione nel settore, attraverso l'irobustimento delle capacità, lo sviluppo di una più solida base industriale e l'adattamento dell'architettura istituzionale dell'UE. Ma non basta. È necessario un salto di qualità, innanzitutto politico. Credo sia infatti ormai chiaro a tutti, e la crisi afghana ce lo dimostra plasticamente, che siamo chiamati ad assumerci responsabilità sempre maggiori, nel quadro di quella che già oggi si chiama, non a caso, politica di sicurezza e difesa comune, e che attraverso la definizione della bussola strategica dovrà finalmente trovare una sua direzione insieme concreta e coraggiosa, per la quale la difesa europea non vada perciò vista esclusivamente come la risposta ad un'esigenza operativa, quanto piuttosto come un tassello fondamentale e necessario alla costruzione di un'Europa più pienamente politica, indispensabile per poter competere ed agire sulla scena mondiale. Si tratta quindi di promuovere una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell'Unione nel campo della difesa e della sicurezza, non in contraposizione, ma anzi in piena sinergia con la Nato. Come ho in più occasioni sostenuto, la convinta promozione dello sviluppo e dell'acquisizione di capacità militari europee deve essere infatti assolutamente interpretata quale naturale e coerente azione di rafforzamento del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica, a conferma dell'insolubilità del solito rapporto transatlantico e con l'obiettivo di consentire l'Europa di contribuire in maniera sostanziale ed efficace alla sicurezza e alla stabilità globale. Per fare ciò è necessario un orizzonte politico e una visione comune. Analisi delle minacce, definizione di un'agenda politica condivisa, costruzione di capacità militari comuni, e soprattutto volontà di utilizzarle come Unione. Durante la ministeriale UE di Ljubljana della scorsa settimana abbiamo affrontato proprio il tema del ruolo che l'Unione vuole giocare nel contesto globale, partendo dall'elezione afghana, che deve essere di stimolo per rafforzarne il coraggio e il livello di ambizione. È evidente che per entrambe le organizzazioni una delle sfide riguarderà anche e soprattutto i processi decisionali. La nuova competizione globale richiede certamente rapidità ed efficienza. Dovremmo essere capaci tutti noi di rispondere a questa esigenza continuando a tutelare i principi e le forme delle democrazie liberali. Una sfida certamente difficile, ma credo ineludibile, dentro i processi di revisione strategica dell'organizzazione internazionale di riferimento. Presidente, senatrici, senatori, l'operato dei nostri militari silenzioso e instancabile merita il plauso e la gratitudine da parte della Nazione per l'impegno al servizio dei valori della libertà e della democrazia in diverse regioni del pianeta, agendo con riconosciute professionalità e sacrificio. L'evacuazione appena conclusa, il quotidiano impegno in patria all'estero e il supporto nella lotta alla pandemia sono mirabili esempi di uno straordinario patrimonio umano, di competenze e di conoscenze, sostenuto dai rinunciabili capacità tecnologiche che dobbiamo preservare e sviluppare. L'esperienza afghana ci chiama la responsabilità di plasmare una nuova architettura di difesa e sicurezza, incentrata sull'evoluzione e la fattiva collaborazione tra una NATO più moderna e un'Unione europea più forte, che consideri in tutta la loro portata le sfide emergenti ed il ruolo degli attori globali. L'Italia, anche attraverso un dibattito che sia all'altezza di questa sfida, deve continuare responsabilmente a fare la propria parte e lo farà. Grazie per l'attenzione.